Con la nostra associazione Alessia e Suei Angeli e anche con il Comitato Nazionale contro la meningite, ahimè ancora assistiamo a delle credenze errate, i cosiddetti falsi miti che imperversano sul web, come la convinzione che il vaccino possa far venire l'autismo, che ancora questa errata convinzione non è stata debellata. Allora in tal senso io voglio fare un sentito appello a tutti i genitori a rivolgersi esclusivamente ai medici, ai pediatri per raccogliere informazioni e chiarirsi i dubbi sulle vaccinazioni e sull'importanza della prevenzione e non rivolgersi al web o ad altre sedi che non sono scientifiche.